Presidente, impiegare le tecnologie satellitari e digitali per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico. L'Agenzia del Demanio ha illustrato le nuove direttrici per la realizzazione di un programma di investimenti. Obiettivo incrementare la conoscenza e l'efficienza della gestione e la manutenzione. L'Agenzia, ha detto il Presidente Agostini, può rappresentare il collettore di idee, contributi e progetti di sviluppo. È tutto, il Tg1 torna come sempre alle 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e arrivederci.